Ciao ragazzi, io sono Amito125 e ci siamo qui su American Track Simulator Allora, partiamo subito dicendo che ho avuto un piccolo problema Avevo messo una mod, era una mod di SISL, l'ho presa dal workshop Però ho notato che mi è crashato tutto, allora dico va bene, basta con le mod ci rinuncio Ne avevo solo una attiva ed è crashata, va bene, mi piaceva tantissimo perché Era la mod per il traffico, il traffico diverso, però visto che non funziona E che vedevo di... non funziona, non funziona Allora oggi come avevamo rimasti andiamo a scoprire un'altra città, si era vista A noi si era vista, non ci siamo mai andati, però ci andiamo adesso e ce la sblocchiamo Ricordiamoci che qui devo giocare il più simulativo possibile perché non ho soldi per pagare le multe Anzi, stiamo facendo un po' di soldini, magari devo controllare se c'è... no, va bene di sesta Se c'è un... come si chiama? Qua c'è uno stop? Se c'è un camioncino da comprare che non sia troppo impegnativo con i soldi Insomma, ma con 50.000 dollari non ci compri niente secondo me Prima, seconda Allora, credo di avere Litton Fueller 10, non ne son sicurissimo Non ne son sicurissimo perché... buh, adesso ci hanno messo ste cazpita di sigle Dentro alla diagnostica C'è scritto il nome del camion, ma è un nome difficilissimo da decifrare Però ho visto che l'unico numero che poteva essere simile a Litton Fueller era un 10 Tutto il resto era molto più... come si chiama? C'era un 31, c'era un 15, Litton Fueller 15 non c'è nel gioco Credo che non ci sia neanche nella realtà, quindi dico, vabbè, sarà questo qui per forza 10 Però mi sembra che vada così lento, vada, cioè, guarda, già sono in ottava e sono ancora qui Vabbè, non lo so, magari la decima è lunghissima? Può darsi che la decima sia lunghissima Perché no? Perché no? Mai dire mai Allora, noi dobbiamo andare da questa parte Sì, comunque la decima sarà molto molto lunga C'ha le prime marce cortissime Poi tutte le altre marce ce le ha molto più lunghe Ah, qua devo andare piano, che me corro? Che me corro, che me corro, che qui mi farà molta mi fanno Allora, togli questa freccia Perfetto, guardate qui, queste qua sono le intersezioni americane che si vedono sempre nei film E sono, secondo me, incasinatissime Però funzionano, se le usano vuol dire che funzionano Allora, volevo darvi una buona notizia Che cambierà American Track Già l'ho detta su Aerotrack questa cosa La dico anche qui su American Track Ho ordinato oggi, il giorno in cui sto giocando Ho ordinato l'SKRS Quindi arriverà anche l'SKRS Per un maggior realismo Poi giocare con l'Eatonfueler sarà veramente la fine del mondo Sarà veramente tutta un'altra storia Non vedo l'ora che arrivi Cioè adesso devo aspettare un mese E questo mese mi sembra tipo un anno Mi sembra Quindi di qua dobbiamo girare verso Camp... Se l'ha scritto Sierra Dobbiamo andare verso Sierra Vista noi Sierra Vista Ho preso la strada sbagliata Mannaggia, mannaggia Ho preso la strada sbagliata ragazzi Bello Però spero che ci sia un modo per tornare indietro Lì mi dice che c'è un modo per tornare indietro Ci sarà un... Non è che mi fa fare... Guarda che questi qua mi fanno fare il giro sull'autostrada Ma vi faccio vedere Mi fanno fare il giro sull'autostrada Si può fare sta cosa Però se mi dice di sì Secondo me non si può fare Infatti c'è il guardrail Che te lo vieta Però... Però c'è il... Cioè io ci provo ragazzi Sennò qua quanto devo fare? Ok mettiamo la settima Mettiamo la sesta Ok mettiamo la quinta magari Mettiamo la quarta Lo faccio Non c'è nessuno Sta cosa qui penso sia illegale Oh però se mi dice di fare così lo faccio No ma infatti di qua non si può passare Ma che mi sta facendo fa? No devo andare dall'altra parte Sull'altra strada Ok Ok più o meno sto... Penso che qua mi ritirino la patente Perché secondo me è illegale sta cosa Vi fermate o non vi fermate? Ok sono fermati Perfetto Seconda Terza Eh purtroppo sbagliare strada su American Track E' un casino Ma anche su Aerotrack è un casino Quando sbagli strada poi non esci più Perché in Italia abbiamo L'uscita e le cose Qui io non le trovo mai le uscite Ma magari ci sono Ma sono a 30.000 km di distanza Come faccio? Come faccio? Vi ricordo anche che io devo fare un video che sia Compatibile per il canale Cioè non posso fare un video di tre ore Potrei anche farlo Nessuno mi ha vi dati farlo Dico però è poco fruibile un video così lungo Non lo so Non lo so Vediamo quello che succede Quindi Arriverà l'SKRS L'SKRS per chi non lo sapesse E' una manopola da mettere sul cambio Viene chiamato cambio Shifter Shifter in America In inglese In americano Penso un po' come parlo oggi Sì vabbè Esiste anche l'americano Che è leggermente differente dall'inglese Diciamo che Inglese Cioè lo capisci subito Lo capisci più o meno quando uno è inglese O quando viene dall'america Cioè in america si parla inglese E fra loro si capiscono Però lo capisci C'è un sacco di termini Cioè anche le pronunce sono diverse Vabbè queste qua poi Entriamo adesso nel E' come parlare italiano Però capisci quando uno Viene da una regione diversa Rispetto alla tua Lo capisci perché c'ha Quell'inclinazione a parlare diversamente Sono le varie pronunce I vari dialetti che influiscono Però sempre italiano è Non è che dico che non è italiano Tipo io me ne accorgo Quando uno viene dalla Calabria Perché in Calabria Abbiamo un modo di parlare Quello lì guida tutto sulla sinistra Non ho capito perché In Calabria abbiamo un modo di parlare Che è diverso da uno che viene dal Trentino Cioè è chiaro che sia diverso E' ovvio che sia diverso Sono due paesi differenti Sono Cioè Sono le inclinazioni Non dico il dialetto Che poi il dialetto è un casino Però già parlando in italiano Te ne accorgi uno da quale Se viene dal sud o dal nord Si capisce subito Si capisce E niente Qui dicevo Arriverà lo shifter Quindi la manopola Io che faccio Smonto questa pallina che c'è sul cambio Ve la faccio vedere Se ci metto la mano Non si vede più Smonto la pallina che c'è sul cambio E monto questa manopola Questa manopola poi va collegata via USB Sul PC Quindi un altro cavo USB Io collego 4-5 USB Quando registro col volante Ci sarà un altro USB da montare Perché voi pensate C'è il trackier Il volante Il cambio La tastierina che uso per il game Sono 4 In più arriverà l'SKRS E sono 5 Bene Sono un po' rovinato Perché le porte USB Ce ne vorrebbero 10.000 Tipo su ogni computer E niente Quindi arriverà anche questa E sono veramente contento Perché poi cambierà Secondo me American Track E spero che poi Vi possa piacere Anche se non vi piace Io lo porto lo stesso American Track Eh Voi dico già adesso A me non mi importa Molti mi dicono Eh non fare American Track Perché Non fa visual Non lo so neanche dire Ma che me frega a me delle visual Io faccio American Track Perché mi piace A me piace Poi Se vi piace Mi piace Se non vi piace Cambiate Cambiate video Ce ne sono così tanti di video Nel mio canale Ne faccio 2 al giorno Poi faccio anche le live Penso un po' Quindi io lo porto nello stesso E con lo splitter Poi Dell'Eaton Fuel Secondo me sarà Sarà veramente fantastico L'ho detto anche su Aerotrack Ho registrato prima Aerotrack E sto registrando American Track Dovrò andare a leggere Perché molti mi dicono Con l'Eaton Fuel E molti video Anche fanno vedere Che è possibile Su Youtube Molti video ci sono Che cambiano Senza premere la frizione Cambiano Cambiano appunto Senza premere la frizione Andrò a leggere Le Le specifiche No Le specifiche No Le indicazioni ufficiali Del Eaton Fuel Per vedere Quello che Dicono loro Perché se loro dicono La frizione Va premuta A me non mi importa Quello che fanno Normalmente i camionisti Ma se loro dicono Va premuta La premiamo noi E comunque qua Oggi ci dobbiamo fare Questi 120 miglia Su Si era vista Da Edis Non so cosa Cos'è che stiamo Formaggio Ma formaggio anche Comunque avete visto Dieci marce Le prime otto Cortissime Non è decima Sono delle overdrive Overdrive Forse è un termine Che non Cioè Io intendo con Overdrive Forse è un termine Che ho sbagliato Però Tipo La nona E la decima E soprattutto La decima Sono delle marce Che tu le metti E te le dimentichi Infatti in America Loro mettono la marcia Il motore sta nel regime Corretto Di giri E loro vanno Vanno Perché comunque In America I viaggi sono più lunghi Se voi pensate Che l'America Divisa anche In time zone In time zone Perché sto parlando In inglese Ragazzi Cosa mi sta succedendo Sono malato oggi Divisa anche In Adesso non mi ricordo Come dire Time zone In italiano Mi è uscito Su time zone Non so da dove Dominicchietta Da dove mi è uscito Infatti c'è Il tempo L'orario Sul pacifico L'orario Sull'oceano pacifico Sull'oceano atlantico Ci sono diversi tipi di orari C'è l'orario Sul centro america Gli orari Sono tanti Perché sono grandi Sono divisi In settori In fasce orarie Non mi viene in mente Cioè Questo time zone Adesso ce l'ho in inglese In italiano Me lo so dimenticato Ed è una parola semplice Time zone È zona di Zona orarie No ma zona orarie No Comunque sapete Tipo Roma È più indietro Rispetto a Londra Di un'ora Tipo ste cose qua Insomma Lasciamo perdere Lasciamo perdere Chi se ne frega Greenwich Vabbè Cose 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 Salve Cose varie Allora Cerchiamo di correre E di portarci avanti Qua potrei andare a 75 Ma il camion a 75 Non ci arriva Cioè proprio Non va di più E fermo lì E fermo Io limitatori Non ce no Qua vi ricordo Che devo guidare bene Quindi cerchiamo di non fare Cerco di non far cavolate Ma adesso per esempio Dove devo andare Devo uscire Qua non c'è nessuno Quindi qua devo uscire No Devo andare dritto Vedi qua Non si capisce bene bene Alle volte Alle volte fai un errore Come ho fatto prima Che è È bello Cioè là c'è il ritiro della patente 25 anni di carcere Minimo Perché fare una cosa del genere È proprio da Cioè Proprio da pazzi Cioè Non si poteva fare quella cosa L'ho fatta solo per Una questione di fruibilità del video Se no Era un casino Anche perché È la seconda volta che Riavvio Perché Quella mod RAM Ha fatto crashare tutto Allora RAM non è un problema di RAM Perché io ho 16 giga di RAM Che non servono a niente Per giocare 16 giga di RAM E Non lo so Non lo so che gli è preso Guarda questo Fermo Ok Il suono Così siamo tutti a posto A Tucson Tucson No ma io a Tucson Non ci devo andare Tucson Residential area Aveva detto C'è scritto qualcosa Com'è che si faceva fare lo zoom Non c'ho lo zoom Ok No Residential area Ulala Per leggere il cartello Qua Vedete qua C'ho un pulsante per zoomare Molti mi chiedono Ma come fai Qual è la mod per zoomare Non è una mod È un pulsante ragazzi Settatelo dai settaggi L'avrò detto mille volte Nessuno mai mi segue Quindi Potrei anche zoomare così Per leggere meglio le cose Avete presente che il camionista si spinge in avanti per volte quando non vede E io c'ho un pulsante che in pratica spinge il camionista in avanti Zoom un po' per vedere meglio le cose Tipo se volessi vedere la targa di quella macchina non la vedo Perché tanto io sono cercato lo stesso E quindi non va bene Allora portiamoci qua Ma io c'ho il cosino Quel cosino lì Applicicato sul parabrezza Dovrebbe essere Un sistema Che ti dice Se devi fermarti alla pesa E in più Qualcuno mi ha detto Non lo so Qualcuno metto di sì Qualcuno metto di no I commenti erano contrastanti Ti segnala anche gli autovelox Allora noi In questo caso A noi finché non abbiamo dei soldi E siamo un'attività avviata Non ci importa Perché comunque rispetterò tutti i limiti Per evitare di prendere delle multe Però è buono Ma io non so se sia legale Qua che c'è scritto Si era vista Lo vedi la track shop Ok si era vista Devo uscire da questa parte Fammi vedere Si era vista Track stop Ah track stop No track shop Non so manco leggere Non so più Quindi cerchiamo di uscire qua Si era vista Lo vedi qua che bello Ok rallentiamo Ho fatto purtroppo Ho fatto per leggere quel cartello primo Ho fatto un casino Ho fatto Oh la la Ok Mettiamo la nona Scaliamo in quarta Guardate qua La quarta è molto lenta Viene qualcuno Allora non viene nessuno Allora mi ci infilo Ok No aspetta Dove sta andando La sesta è da questa parte Sesta Vedete qua quanta è lenta la sesta Siamo ancora Di sesta Siamo a 20 20Q5 Settima E siamo Neanche a 30 Guarda È già finita Poi mettiamo l'ottava Guardate qui In ottava Siamo ancora A 35 Facciamo 40 Poi la nona e la decima Fanno tutto l'oro Fanno Guarda la vedi qua Va benissimo Va benissimo 24 miglia Dov'è nel deserto Questo cosino Quindi ottava Fai 40 42 Si Proviamo a vedere la nona Quindi 45 Circa di ottava E la nona Quanto mi fa La nona mi fa 50 E poi La decima Mi fa 65 Ok Mi ci infilo Tanto non c'è nessuno 50 Quanto mi fa qua 50 Non lo so Non riesco a capire Questo cambio Come è settato Perché le prime marce Sono veramente corte Uh aspetta Aspetta Rallenta un bel po' Rallenta Ok Manteniamolo così Sui 55 Perché qui Il limite è 55 E va rispettato Ragazzi Va rispettato Perché ci fanno la multa Come vedete qua la nona Ha un bel range Ci sono delle marce Che hanno un bel range Potrei anche mettere la decima Questi motori qua Americani sono grossi Hanno una grossa coppia Girano lenti Girano bassi Vi ricordo sempre Che più il motore è grosso Adesso ve lo dico così Non prendetelo bene Più il motore è grosso E più deve girare lento Il discorso diverso E se il motore è grosso È diviso in 2000 cilindri Girerà altissimo Perché Non dipende Da quanto è grosso il motore Ma dipende piuttosto Da quanto È grande Grande il pistone Cioè è il pistone Che limita Uh qua devo andare a 35 È il pistone Che limita le velocità Eh Le velocità di La velocità media Sul pistone Ecco chiamiamola così Ah devo andare da quella parte Io Scusimi Quanto aveva frenato quello Mettiamo la sesta Ok io devo andare da questa parte Perché me ne sono sbagliato Quindi È la velocità media Del pistone Che limita Il numero di giri Del motore Adesso poi Poi Cioè senza dirvi neanche Che il pistone Arriva in un punto In cui Ha una velocità media Di zero Ma vabbè C'è un certo C'è un due punti Nel motore Che sono i punti morti Superiore e inferiore Infatti punto morto In cui Istentaneamente Il La velocità La velocità Del Come si chiama Del pistone Zero Ma quelli sono Due punti particolari Poi si calcola sempre Sulla velocità media Perché la velocità media È quella che poi Con l'inerzia Ma vabbè Lasciamo perdere Adesso non entriamo Troppo nei particolari Che sennò qui Facciamo lo schifo Facciamo Io devo andare da quella parte Ho messo la freccia Vabbè non serve la freccia Perché sono indirizzato Quindi spero che mi faccia Passare adesso Ok Prima Seconda Vedete la seconda È cortissima Terza Quarta E quinta Perfetto Quindi ci sono Mi metto da questa parte Aspetta La sesta dove sta Che bello Quando avrò lì Tonfueler Che non devo più diventare matto No aspetta Mettiamo qua La seconda No mettimi la settima Settima Ok E togli sta freccia Non c'è bisogno Di farmi diventare matto Ok 25 Qualcosa è una base militare Tipo C'è un camion Che sta Aspetta lì Che aprano Ok Io devo entrare dove Qua Sai che non so dove entrare No qua no Qua c'è un altro Bucchettino Non segnalato Penso che sia sulla Mi devi far passare Bello Aspetta che lo faccio passare A questo Vai 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 Che poi mi infilo io Vai che mi devo infilare Da quella parte Ok Ho visto dov'è Si chiama Eddie Sto signore Signore Edis Si edis 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 Qua 50% di sconto Ah ma non mi fermo E mi compro qualcosa Ah su alcuni prodotti selezionati Ok perfetto Quello sta lavando le porte Perfetto Dammi qua Il cosino Invio Allora vediamo un po' Dov'è che lo vuole Se è difficile lo faccio Dove vuoi No troppo difficile ragazzi Non ce la faccio Lo metto lì Lo metto e non se ne parla più Non riesco più a fare i parcheggi Difficili Forse ho perso un po' Ho perso un po' La mano Ho perso Ok mettiamo la prima Dov'è che lo vuole Eh no aspetta Di qua non ci passo adesso Mettiamo la RL Ok così E devo guardarmi anche indietro Perché qua Sembra semplice Ma potrebbe toccarti E infatti Mi potrebbe toccare Lì dietro Eh no Così non ci entrerò mai E come faccio Eh cioè mi sono bloccato Mi sono bloccato È impossibile parcheggiare Perché più di così Non posso andare Allora mi devo allargare tantissimo Da quella parte Quindi mi allargo tantissimo Da quella parte Vedete qua già La consegna semplice È difficile No mi sono fatto spegnere tutto Porca miseria Quindi Perché forse c'è già C'è marcia a piede E non mi fa salire Ok non mi fa salire di qua Perché c'è marcia a piede Ok Allargati tutto Eh c'è tutto Caspita di marcia a piede Che mi rompe proprio Eh ma intanto Se non mi allargo Io di là non mi ci posso Mica infilare Mi devo allargare tantissimo E devo stare attento al muso Perché col muso Potrei fare dei danni Ok Perfetto Adesso c'è un po' più di largo Rispetto al A come si chiama Al cancello che c'era prima Non mi entra la prima Ok adesso è entrata Non mi entrava la prima Cioè mi temo problemi Com'è che mi si era bloccato Non lo so Ok Di qua dovrei farcela Stiamo il più larghi possibili Più largo possibile Più largo possibile Ok Ok ci siamo Ci siamo Possiamo fare tutta la manova Che vogliamo Mettiamo la seconda Ok È molto lungo sto carico È molto lungo Mi ha fatto rimanere Un attimo perplesso Ok Mettiamolo fin qua Sono altri soldini Che ci portiamo a casa Purtroppo ho fatto Quel Quel cavolo di errore Per fare lo zoom Così Per leggere La scritta Guarda È soddisfacente Sì per forza soddisfacente Mi toglierà dei punti Dei bonus Mi toglie i punti Del bonus Vabbè Allora finisco questo video Se il video vi è piaciuto Vi ricordo di lasciare un commento Mi piace Di iscrivervi al canale Se ancora non siete iscritti Di condividere il video Se potete Noi ci vediamo Nelle prossime puntate Ciao